ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario for click informazioni commerciali titolare djp farma srl concessionario djp farma srl confezioni fort lego spolvere 60 gc barra misurino da 2g formulazione 1 misurino da 2000 mg glucosamina solfato 300 mg condroitin solfato 200 mg msm 50 mg garcinia mangostana garcinia mangostana l frutti s 60 mg collagene tipo ii 20 mg vit e 10 mg selenio 25 mcg indicazioni fort lega un supplemento nutrizionale utile quale coadiuvante nella prevenzione e cura delle affezioni osteoarticolari osteoartrosi processi degenerativi legati all'età e da traumatismi prevenzione dei problemi articolari di cani di grossa taglia crescita coadiuvante per mantenere nel gatto l'integrità epiteliale delle vie urinarie ripristinando lo strato protettivo di glicosaminoglicani gag soprattutto in caso di cif cistite idiopatica felina o flute patologie delle basse vie urinarie posologia cani 1 misur 2 g barra di e fino a 15 kg di peso 2 misur 2 g barra di e fino a 30 kg di peso 3 misur 2 g barra di e per cani di peso superiore ai 30 kg gatti 1 misur 2 g barra di e dose di attacco per circa 12 mesi ripetere per due cicli l'anno nelle forme croniche dopo l'attacco dimezzare la dose o somministrare a giorni alterni fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato